Un concerto che facciamo insieme alle ACLI e all'Associazione Diabetici ed è dedicato a tutti noi, come al solito ne facciamo per beneficenza quindi se poi raccogliamo qualcosina li rinvestiremo sulle nostre attività della misericordia. Emozioni e storie raccontate attraverso i brani musicali del Novecento la Chiesa di Santa Maria della Pieve ha ospitato la seconda edizione del concerto insieme per una serata di musiche e parole per riflettere sulle diverse situazioni della vita dell'uomo. Sono 12 brani, ogni brano ha una sua connotazione che riflette alcuni momenti della nostra esistenza quindi avremo la gioia, avremo il dolore, avremo l'amicizia, avremo l'amore di Dio avremo un pochino tutte queste... è un momento per poter fare una riflessione su come noi stiamo vivendo. L'iniziativa è stata promossa dalla misericordia e dalle ACLI assieme all'Associazione Diabetici e Aretini. È importante ricordare l'impegno dei volontari, alle volte ce ne dimentichiamo perché non è qualcosa che è visibile in maniera eclatante come tante altre cose ma ogni giorno operano nella nostra città, nel nostro paese, nel mondo intero volontari che si sacrificano, che a volte mettono anche in pericolo la propria vita per il prossimo quindi credo sia veramente la loro festa stasera, il momento in cui devono essere ricordati ed essere amati. Protagonista della serata, la band M&M Medici e Musica Anche l'anno passato l'abbiamo fatto, quindi siccome è venuto bene, ci piacciono questi momenti l'abbiamo replicato. Stavolta qui in Pieve ringrazio Don Alvaro per averci dato questo luogo così bello per poter fare questo momento di gioia e per esprimere questa nostra felicità per tutti noi è una festa per tutti noi Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!